Il capitolo la formazione della Novara prima di questo calcio di punizione dicevo tantissime l'assenze per la formazione di Moreno Greco o di Giacomo Gattuso a seconda dei punti di vista con l'allenatore Areferto che in realtà è Moreno Greco ma sappiamo tutti come sia proprio Gattuso il vero e proprio allenatore della Novara dopo l'esonero di Luigi Sacchetti dicevo degli assenti per il Novara I due squalificati Micillo e soprattutto il capitano Sandro Ciuffetelli assente tra l'altro anche all'andata Ora attenzione ad Artico per Tramezzani la sua botta con Lamantia che si supera in corner il tracciante Mancino alla terzo minuto da parte di Paolo Tramezzani indirizzato nella sette alla sinistra di Lamantia bravissimo nel distendersi e nel mettere il pallone in corner Dalla bandierina del calcio d'angolo lo stesso Tramezzani in mezzo nel mucchio a pugni uniti Lamantia poi Biava prova a rimettere dentro Trezzi appoggia per Terni